Lo miracolo di Santa Lucia, mi rissi me nanna quando era nica, ora ti conto una storia antica, in capoliammi mi fici a settare, e a raciaraccio si misa a contare. Ci fu una volta a Siracusa, una carestia troppo dannosa, pane uncinnera e tante famiglie non rinascinano a sfamare i figli, ma pure un mensa alla disperazione non ci mancava mai la devozione, e addumannavano a Santa Lucia chi li salvasse di la carestia. Un bello giorno arriva di lontano, rincia lo porto siracusano, una nave carica di formento, a liberale ridù tormento, per i cristiani la gioia fu tanta che griravano viva la Santa, per chi fu grazie alla santa cessione che aveva arrivato da benedizione. Tutti accorriano alla marina, ma era formento, un'era farina, e con l'opetito che non faceva vintare non c'era tempo di rire a mangiare, per mettersi subito in salvamento avevano a cocire lo stesso formento, e più la forma accoccia cavia a cominciare a chiamare la cucchia. La buona nuova arriva lontana, e più sta martire siracusana, fu a questi grandi la venerazione che ci fai nascere in una tradizione. Passa lo tempo e la carestia, e resta l'usanza per Santa Lucia, rinfare pane ed un coci ripasta, e di mangiare la cucchia e basta. Ma lo sapemo, ciboli picca, e l'usanza di scarsa diventa ricca. A ognuno ci venne la bella pinzata a ripripararla più elaborata, che ci mettia lo biancomanciare e con lo vino cotto ci fosse miscare, che ci volia lo meli rifico e tante altre cose che manco tirico. Ma io volessi sapere, alla fine non rispuntarono le belle arancine, e ma domani, di quali mano nascero le panelle e lo risattiano, e namenti mia nonna si sforniciava, a mia luce stomaco come mormoriava, e mi ricordo che ci avessi detto, no no, zittemone, cacciavo i petito.